L'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Vangelo secondo Luca capitolo 2 versi 10 e 11 Grazie per la visione!